Parole di cielo e rivelazioni profetiche. Dal profeta Amos, in verità il Signore non fa alcuna cosa senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato. Chi non profeterà? Amos 3, 7, 8. La Chiesa degli ultimi tempi. Accorrete tutti, o popoli della terra, e ascoltatemi. È il vostro Dio che vi parla, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E come al tempo di Mosè, vi fu profetizzato per la sorte del popolo in Egitto, duro di cervice e dal cuore indocile e ribelle ai miei richiami, ecco che io vengo a voi per rivolgere il mio appello, il mio grido alla conversione dei vostri cuori e al pentimento dei vostri peccati. Raddrizzate le vostre Dio, figlie di Sion, piegate le vostre ginocchia innanzi al figlio dell'Altissimo e prostrate i vostri corpi alla presenza del Santo Spirito che aleggia su chiunque voglia seguire i miei comandi, udire i miei richiami e praticare la mia parola. Ecco, il Signore, il Dio onnipotente, terrà conto di ogni vostra preghiera, di ogni vostro sacrificio offerto per amore di mio figlio e della diletta Sua Madre. Mi compiaccio della fedeltà e della perseveranza dei miei giusti e servi del Signore Dio. Ho asciugato ogni lacrima scorrere dai vostri volti. Vi ho tenuti stretti tra le braccia del Padre. Ho ascoltato ogni grido di dolore partire dal vostro cuore. Ciascuna parola uscire dalle vostre bocche, persino i vostri pensieri non mi sono stati indifferenti. La croce che portate era divenuta anche la mia croce. La stessa che ha condotto mio figlio ad immolarsi per la purificazione e il perdono dei peccati dell'intera umanità. Senza di essa l'opera di redenzione non si sarebbe mai potuta realizzare sotto ai miei occhi. Credete dunque che il Signore degli eserciti non tenga conto delle vostre sofferenze, che non abbia cuore il patire delle vostre membra o veduto la stanchezza scendere sui vostri volti, che non abbia ascoltato le vostre menti affannate dai mali provocati dal Principe di questo mondo. Eppure io vi dico che conosco ogni vostro sgomento. Ero presente ogni qualvolta ardevate di pregare nel mio santo nome in ogni dove. Lo Spirito Santo infatti non conta delle barriere imposte dalle menti umane. Ho udito ogni preghiera nascere dai cuori di ciascuno e innalzarsi all'orecchio dell'Altissimo. Come conosco ogni capello del vostro capo, così il vostro cuore, ogni pensiero umano non mi è nascosto incluso il vostro operare. Ho veduto mani impure peccare in obbedienza a Satana compiendo abomini ed altre invece a me consacrate portatrici di carità e doni dello Spirito Santo. Alcuni di voi sono pretenziosi nel scrollarsi di dosso la croce di mio figlio ottenuta per la loro purificazione e santificazione. Come potete dunque lamentarvi del patimento se il vostro peccare non accenna sradicarsi? Rimembrate cosa ha dovuto patire il figlio dell'agnello per redimere le vostre colpe e pensate quante volte ancora lo avete crocifisso con le vostre stesse vite. Intendo bene quanto siate stanchi e bramiate riabbracciare mio figlio. Io giungo a voi per mezzo della mia piccola prediletta per annunciarvi la gloria della resurrezione. Il tempo è ormai maturo e per molti di voi sta per scadere. Se non vedo accennarsi benché una minima conversione nei cuori dei molti uomini che vivono lontani dal mio volere e dei pastori che vanno avanti imperterriti disperdendo il mio gregge. Ecco che il Signore Dio Onnipotente darà inizio all'opera di castigazione e la punizione dei mali di questa terra sarà avviata. Oracolo del Signore e voi sacerdoti e politici vi siete venduti a Satana. Voi sacerdoti avete permesso che entrasse nelle mura sacre o in quello che di sacro è rimasto, nelle mura del Vaticano e nelle cattedrali cattoliche con quello che di sacro era rimasto, avete permesso che un idolo satanico e pagano al quale le popolazioni antiche offrivano dei sacrifici umani, avete permesso che questo idolo venisse portato all'interno delle mura e avete permesso che un idolo satanico rappresentante Satana incinta e tutto questo rappresenta il demone che partorirà l'Anticristo, voi avete permesso e vi siete inginocchiati dinanzi a questo idolo. Poi colui che rappresenta il falso profeta ha ordinato e consigliato di prendere delle sostanze definendole atto d'amore e non si è pentito nonostante le reazioni drammatiche che accadono in ogni parte del mondo, ogni giorno. Lo stesso soggetto ha più volte massacrato la parola di Dio, lo stesso soggetto ha più volte dichiarato di voler benedire gli eredi della città di Sodoma e Gomorra perché le benedizioni sono delle cose buone, ma quando mai Dio ha benedetto i peccatori? E lo ha messo pure per iscritto giustificando in ogni modo quell'abominio, quello stesso soggetto che ha poi accolto nella santa sede o di quel poco di santo che è rimasto, abortisti del nonomese, guerra fondai e altri figli di Satana che speculano sui bisogni della gente, che chiedono alla gente di mangiare insetti. Lo stesso soggetto non ha fatto nulla per fermare con il proprio corpo la guerra tra fratelli perché questo è quello che avrebbe dovuto fare un vero figlio di Dio, un vero servo di Dio, un vero rappresentante di Gesù Cristo, si sarebbe dovuto mettere con il proprio petto dinanzi alle fucilate, alle cannonate, fra una parte e l'altra per impedire il massacro di gente innocente. E continua a non dire nulla riguardo il massacro di bambini nella terra del Medio Oriente. Non ha alzato la voce per richiamare i capi di Stato italiani che tradendo la Costituzione, che tradendo non solo le leggi civili e penali del nostro Paese hanno tradito la parola di Dio fornendo armi a un guerra fondaio, a un Paese in guerra. E quella signora che si definiva cristiana, che si definiva madre, che si definiva patriota ha tradito i propri figli e ha permesso che altri figli venissero dilaniati in una terra dimenticata da padroni della guerra. La stessa signora che si definisce cristiana permette una guerra senza fine fra una parte e l'altra, che dovrebbero essere invece fratelli e pregare l'uno per l'altro, invocando la discesa dello Spirito Santo, favorendo in questo modo assurdo di fare e di dare armi a un soggetto che sta contribuendo al massacro del proprio popolo, un popolo governato da un ballerino con i tacchi a spillo, un soggetto che ballava nelle ballere, nei cabaret e che adesso è diventato capo di Stato. Quello stesso soggetto che adesso gira per tutto il mondo chiedendo armi per poter sconfiggere una nazione che non è riuscita a sconfiggere nessuno e che non riuscirà a sconfiggere nessuno perché quella nazione enorme ha un destino divino che dovrà compiere. E voi tutti ci state trasformando in un bersaglio per dei soggetti che a noi non hanno fatto nulla di male, anzi ci hanno aiutato in diverse occasioni. Posso dire soltanto una cosa, che questo soggetto con tutti i suoi difetti, con tutti i massacri che ha compiuto, Dio lo giudicherà per questo, ma io dico con tutti i suoi difetti questo soggetto fa gli interessi della propria nazione. E voi invece, governanti d'Italia, di chi fate gli interessi? Chi abbracciate quando andate in giro? Abbracciate operai, lavoratori, abbracciate gente senza lavoro, disoccupati, handicappati, soggetti che si trovano in profondo stato di disagio perché hanno creduto nella scienza e altri soggetti che non ci sono più. Ed è rimasto soltanto il dolore dei genitori e non si possono neanche nominare i morti perché voi siete arrivati al punto e che volete far tacere il grido di dolore della gente. Dio vi dice, se non vi pentite in brevissimo e pochissimo tempo, voi sarete i primi a pagare non soltanto di una morte cruenta, ma dovrete subire, anche dopo la morte, le fiamme del fuoco dell'inferno e una pena senza fine perché avete tradito Dio, i suoi insegnamenti e non avete avuto pietà per il popolo e vi siete vestiti di maledizione. E sarà la stessa maledizione a circondarvi nel nome potente e glorioso di Gesù. Inoltre avete permesso che questo paese, la pupilla di Dio, la musa del poeta, diventasse un covo di soggetti che appartengono ad un credo sanguinario, che si stanno espandendo, che sono uniti fra di loro, che ci giudicano e vedono come siamo corrotti, tanto da combatterci fra di noi e vengono, distruggono le nostre chiese, commettono atti ignominiosi contro le nostre donne. E i governanti non fanno nulla e i giudici, anch'essi venduti, non provvedono a liberare questo paese da questa gente. Non siamo riusciti a sconfiggere la mafia, la camorra, l'andrangheta. Non riusciamo a liberare le nostre strade da spazzatura e da rifiuti di ogni tipo. Non riusciamo a liberare i nostri vicoli, le nostre stazioni, da spacciatori, stupratori. E vogliamo sconfiggere un grande paese mandando armi ad un altro paese, dimenticando poveri italiani che fanno la fila per prendere un pacco alimentare. Il giudizio di Dio grava su di voi. Voi che adesso ridete e fate i buffoni al Parlamento avrete una dura e triste condanna da parte del Signore degli eserciti, perché noi cristiani chiediamo la giustizia di Dio. Amen! Ha fatto bene a coprirsi la faccia, perché l'ha persa completamente. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Io penso che prima o poi lo Stato dovrà decidere di prendere per il collo un po' di persone e farle...